Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è Anna Pettinelli è fuori da amici, ormai è chiaro. Insieme a lei, anche Veronica Peparini, sua ex collega di ballo. Dopo tre anni, la speaker ha detto addio al celebre talent e di motivi almeno per adesso sono ignoti, ma sappiamo che a sostituirla sarà a risa. Ma c'è una cosa che si stavano chiedendo in tanti. Quindi, non è chiarissimo se i battivecchi pubblici tra la Pettinelli ed il suo ormai ex collega Rudy Zervi fossero veri, oppure se fossero costruiti per fare show. A mettere in chiaro le cose ci ha pensato lei stessa, Anna Pettinelli e l'intervista con Lorella Cuccarini. Anna Pettinelli prova astio verso Maria De Filippi. Assolutamente no, almeno non sembra affatto stando alle sue dichiarazioni rilasciate a un caffè con, il web talk condotto da Lorella Cuccarini. Ospite dell'ultima puntata del format, la Pettinelli ha parlato senza filtri della conduttrice e di lei ha detto che ha sempre ragione, per poi aggiungere che, se avesse un problema serio, chiederebbe proprio il suo parere, dal momento che si fida ciecamente di quello che pensa. Anna Pettinelli poi, parlando con la sua ormai ex collega, ha anche fatto un tuffo nel passato, parlando di Temptation Island, a cui ha partecipato qualche anno fa insieme ormai al suo ex compagno Stefano Macchi, a cui ha detto addio di recente. A questo proposito ha detto di aver accettato solo essersi assicurata di poter parlare a telefono ogni giorno con la figlia Carolina ed ha ammesso che paradossalmente il periodo più complesso è stato il ritorno a casa. La messa in onda delle puntate, infatti, con annessi nervosismi, ha messo a dura prova il loro rapporto, ma nonostante ciò rifarebbe tutto, perché è stata se stessa al 100%. Ovviamente non sono mancate anche domande su Rudy Zerbi, altro suo ex collega con cui non pareva ci fosse un ottimo rapporto. Molti però hanno pensato che i due professori di canto spesso esagerassero per fare show, ma ci ha pensato la Pettinelli a fare chiarezza su questo punto. Le parole su Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, parlando con Lorella Cuccarini che tra l'altro era presente durante le svariate liti ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Rudy Zerbi. Cosa c'è di vero sulle loro litigate? Tra i due c'è davvero Astio, oppure è tutta una messincena messa in piedi per creare audience? Ci ha pensato lei stessa a dire come stanno davvero le cose? Come ha spiegato la stessa Pettinelli, non sono diplomatica, dico cose scomode. Ho perso lavori per questo motivo. Ora vuoi chiedermi di Zerbi? La gente mi chiede se davvero tra me e Zerbi c'è tutto questo litigare. Altro che scaramuccia. Tu lo sai che è vero. Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Lo rispetto perché fa il prof, però non c'è nulla da fare. Siamo proprio lontani anni luce, nella gestione delle cose, nei pensieri, non abbiamo nessun punto in comune. Proprio nessuno. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.